Museo Diocesano di Ortona. Il primo nucleo della collezione museale fu raccolto nel secondo dopoguerra al fine di conservare e tutelare le numerose e pregevoli opere artistiche che vanno dal XII al XIX secolo, provenienti dal Duomo e da altri edifici del culto di territorio, scampati alla distruzione dei bombardamenti subiti dalla città di Ortona durante la Seconda Guerra Mondiale. In occasione delle solenne celebrazioni per la Festa del Perdono di Santo Maso Apostolo, il 3 maggio 1980, la struttura fu aperta al pubblico come Museo della Cattedrale e solo dopo ulteriori lavori di restauro e riallestimento nel 2003 venne riconosciuto come articolazione del Museo Diocesano di Lanciano Ortona. Le opere in esso conservate, esposte in tre vasti ambienti, occupati nei secoli passati da altrettante cappelle collegate alla Chiesa Maggiore, rappresentano in maniera paradigmatica il livello artistico e culturale raggiunto da Ortona nel corso della sua storia, ma soprattutto esse sono una testimonianza concreta della volontà di salvaguardare il proprio patrimonio culturale a beneficio delle future generazioni, anche nelle sciagure più devastanti, come fu certamente la distruzione alla quale la città fu sottoposta nel dicembre del 1943. Sala 1 Cappella del Rosario L'itinerario espositivo nella prima sala, antica sede della Cappella del Rosario, si sviluppa secondo un criterio cronologico, di capolavori dell'arte pittorica dal 400 al 600. L'insieme dei dipinti è assai significativo, con capolavori come Il Volto Santo di Lucca e Il Miracolo del Giullare e la quasi coeva Madonna col puer dolorosus. Storicamente importanti sono l'articolata composizione dell'Adorazione dei Pastori, datata 1581, e le tele del pittorio ortonese del 600, Tommaso Alessandrino e quelle attribuite a Giovanni Battista Spinelli, nato a Chieti, da padre Bergamasco, agli inizi del XVIII secolo. 1.2. Il Volto Santo di Lucca è il Miracolo del Giullare, XV secolo, tempera su tavola, proveniente dalla Cappella del Salvatore della Cattedrale. Il grande dipinto su tavola, al quale è raffigurato il Volto Santo di Lucca, ancora inserito nel mirabile dossale d'altare in legno dorato, databile alla seconda metà del XVI secolo, era originariamente collocato nella Cappella del Salvatore in Cattedrale, già la Cappella Gentilizia della famiglia Riccardi, passata poi ai Canonici. I Riccardi, filoangioini, vissero in Ortona tra la fine del XIV ed i primi decenni del XVI secolo e furono molto influenti nel Regno di Napoli durante il XV secolo, specialmente con Francesco I, Ciambellano, Siniscalco, Castellano a Napoli, ambasciatore a Costanza per l'elezione a Pontefice di Martino V, vicere e governatore di Perugia dal 1408 al 1414, morto nel 1424. Tennero molti feudi, abruzzesi e non, e trassero parentele cospicue e nobili. Il Volto Santo di Lucca, oggetto fin dal Medioevo di una diffusa venerazione in tutta Europa, è un crocifisso ligno, conservato nella navata sinistra della Cattedrale di San Martino a Lucca, in un tempietto a pianta centrale, costruito da Matteo Civitali nel 1484. Secondo l'antica leggenda riportata dal diacono Leobino, il Volto Santo è stato scolpito da Nicodemo, dopo la resurrezione e l'ascensione del Cristo, meno il volto che si sarebbe modellato senza nemmeno l'intervento umano e quindi sarebbe il vero volto del Cristo. Il dipinto raffigura uno dei più noti miracoli del Volto Santo, che avrebbe lasciato scivolare, in segno di gradimento, una delle sue pianelle d'oro tra le mani di un giullare, che in segno di devozione vuole dargli un saggio della sua arte. La devozione per il Volto Santo può essere messa in relazione sia con la presunta origine lucchese dei Riccardi, sia sulla capacità riconosciuta al simulacro di tenere lontani invasori e pirati. 1.3. Ignoto. Adorazione dei Pastori. 1581. Olio su tela. Proveniente dalla congregazione degli Agostiniani. Il dipinto, impostato secondo una prospettiva spaziale dall'accentuato verticalismo, nella quale intorno alla scena principale si affollano personaggi diversi, mentre nel paesaggio di sfondo, dettagliatamente rappresentato, vediamo snodarsi un lungo corteo, appare seguito nella grande ricchezza e complessità della composizione dalla stessa mano a cui si deve l'annunciazione, datata 1583, collocata nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, ma probabilmente proveniente dalla chiesa dell'Annunziata presso Porta Caldari, che ospitò i celestiniani dopo l'incursione piratesca del 1566. L'autore, in passato, era identificato col pittore veneto Giovan Battista Rusconi, attribuzione oggi superata senza che sia stato possibile assegnare le due opere al catalogo di altro artista, che sembra rivelare però ascendenze marchigiane vicine a Lorenzo Lotto, mentre il tono narrativo e figurativo lo avvicinerebbero a Simone De Magistris e Bartolomeo Morgante. 1.5, ignoto, deposizione della croce, 1590 circa, olio su tela. Il dipinto mostra, evidenti, i segni delle vicissitudini nelle quali deve essere rimasto coinvolto, in particolare le ampie cadute di colore in corrispondenza di vecchie piegature della tela, che era stata privata del telaio. Benché in partenza compromessa dalle suddette e piuttosto vaste lacune, la lettura dell'opera rivela, a detta degli esperti, la personalità di un artista formatosi nell'area tosco-romana, ma influenzato da artisti marchigiani. Il soggetto si colloca perfettamente, con la sua intensa espressività e il senso di pietà che da esso emana, nell'ambito della pittura della controriforma e ricalca modelli piuttosto diffusi, e in particolare l'opera ortonese sembrerebbe derivare dalla deposizione di Daniele de Volterra. Degna di nota, ai piedi della croce, la presenza di San Francesco, il che porterebbe ad individuare la committenza dell'opera nell'ambiente minorita. 1.6. Tommaso Alessandrino, Pietà di Chioggia o Apparizione della Madonna della Navicella, 1629, Olio su tela, proveniente dalla chiesa della Santissima Trinità di Ortona. L'opera, commissionata da Cesare Gervasone, membro di una ricca famiglia originaria di Bergamo, stabilitasi in Ortona, raffigurato in preghiera in basso ed identificato dal medesimo stemma che compare sull'opera successiva, è molto interessante dal punto di vista iconografico. Il soggetto è l'apparizione della Madonna della Navicella, così chiamata perché il 25 giugno 1508 l'addolorata apparve all'ortolano Baldassarre Zalon. Nei pressi della spiaggia di Sottomarina di Chioggia, con il Cristo in grembo piegato dai peccati dei Chioggiotti per scomparire poi su una navicella senza conducente. In alto, riconoscibilissima, Venezia con piazza San Marco, con l'isola di San Giorgio e in una eccezionale raffigurazione, il Bucitoro. L'esecuzione del dipinto, firmato e datato, è di pochi decenni posteriori al completamento del santuario avvenuto nel 1585 e divenuto punto di riferimento della comunità cappuccina. 1.7. Tommaso Alessandrino, I tre regni dell'oltretomba o Giudizio universale, 1631 o Olio su tela, proveniente dalla chiesa della Santissima Trinità di Ortona. L'opera che, come la precedente, fu commissionata da Cesare Gervasone, come illustrato da una delle numerose iscrizioni presenti sul dipinto, collocata proprio sotto lo stemma che compare sulla destra, è molto complessa dal punto di vista iconografico. In essa troviamo rappresentato la scena del giudizio universale. Sull'asse verticale si trovano raffigurati in sequenza, dal basso verso l'alto, Satana, l'arcangelo Michele, San Francesco che abbraccia la croce, centro ideale della composizione, Cristo tra la Madonna e San Giovanni, la colomba dello Spirito Santo e Dio Padre, tra le sfere celesti e i cori degli angeli, sotto i quali stanno coloro che sono morti prima della venuta del Redentore e gli Apostoli. Ad un piano inferiore, i Santi e più in basso, ai lati della croce, gli angeli coi simboli della passione. Tutta la metà inferiore, invece, è dedicata alla dimensione terrena, affollata di altrettante numerose figure e animata dal movimento dei corpi, attirati verso l'alto o precipitati verso il baratro della dannazione eterna. 1.8. Tommaso Alessandrino, Assunzione di Maria, 1627, Olio su tela, proveniente dalla chiesa della Santissima Trinità di Ortona. Il dipinto rappresenta, oltre che chiaramente un tributo alla Vergine, che terminato il corso della vita terrena fu trasferita in Paradiso sia con l'anima che con il corpo, anche un riferimento ad un episodio che la tradizione riferisce all'Apostolo Tommaso, il quale sarebbe stato dubbioso anche in questo, dell'effettiva ascesa della Madonna in cielo, e per questa ragione ella gli avrebbe fatto cadere dall'alto la sua cintura, cintura che divenne uno degli attributi iconografici col quale Tommaso sarà successivamente identificato insieme alla squadra. L'autore, Tommaso Alessandrino, nacque ad Ortona intorno al 1570 e svolse la sua attività artistica principalmente nella sua città di origine, benché siano riportate notizie di suoi interventi a Caldari, Crecchio e Lanciano, dove eseguì una pietà per il convento Cappuccino di San Bartolomeo, oggi presso i depositi del Museo Diocesano e un'ultima cena, già nella cattedrale dell'Annunziata e ora sull'altare del Santissimo Sacramento della Basilica della Madonna del Ponte. L'Alessandrino si spense il 22 giugno del 1640. 1.9. Tommaso Alessandrino, San Bernardo di Chiaravalle e il miracolo del latte, 1632, olio su tela, proveniente dalla chiesa della Santissima Trinità di Ortona. L'autore riprende un modello iconografico piuttosto diffuso che si riferisce ad un episodio della vita del santo fondatore della celebre abbazia di Clarivaux vissuto tra il 1190 e il 1153. Si narra che mentre Bernardo era intento alla stesura del commentario al Cantico dei Cantici, in lode alla Vergine Maria, ella gli apparve e il latte sgorgato dal suo petto andò a bagnare le labbra del santo che da quel momento ebbe il dono di prodigiosa eloquenza. San Bernardo, figura centrale della devozione mariana, sviluppò tre temi centrali della mariologia, ripresi da Papa Pio XII, venticinquesima enciclica scritta nel 1953 in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo, esponendo, come egli spiega, la verginità di Maria, stella del mare, come pregare la Vergine e come confidare in Maria come mediatrice. Anche su questo dipinto compare, seppur non perfettamente leggibile, lo stemma del donatore. 1.10. Giovan Battista Spinelli, San Luigi, San Cristoforo e San Pietro, secondo quarto del XVII secolo, olio su tela, proveniente dalla chiesa del Carmine. Giovan Battista Spinelli nacque a Chieti nel 1613 da Sante Spinelli, agiato mercante di origine bergamasca. Si trasferì a Napoli intorno al 1630, avendo modo di entrare in contatto con l'ambiente artistico della capitale ed in particolare con Massimo Stanzione, con il quale dipinse la tela Gesù fra i dottori per la chiesa napoletana dell'Annunziata. Una sua sorella, Caterina, sposò il barone Ludovico de Pizzis di Ortona. Morì a Ortona il 20 novembre 1647, anche se recenti studi lo vorrebbero ancora in vita nel 1658. Le sue opere, presenti in molti centri abruzzesi, in Campania e in Calabria, in chiese e collezioni private, sono caratterizzate da schemi compositivi singolari, da una personale sensibilità cromatica e dal movimento nervoso dei gesti e delle forme delle figure. La sua figura d'artista è stata studiata e rivalutata solo in anni relativamente recenti e questo ha contributo al suo inserimento a pieno titolo tra i maestri della pittura napoletana del XVII secolo. 1.11. Ambito abruzzese. In coronazione di Maria Vergine tra San Francesco e Sant'Antonio di Padova, secondo quarto del XVII secolo, olio su tela, proveniente dalla chiesa della Santissima Trinità di Ortona. L'opera, parte centrale del trittico con San Simone Zelota e San Bartolomeo, era collocata sull'altare ligno della chiesa Cappuccina della Santissima Trinità, sormontata dal riquadro raffigurante Dio Padre, dalla quale è stata rimossa solo in anni recenti per essere restaurata. La costruzione del convento dei frati Cappuccini iniziò nel 1626, come testimoniato dai documenti e dall'iscrizione posta sul portale della chiesa, e la sua consacrazione avvenne nel 1645 ad opera del vescovo Alessandro Crescenzi. Secondo quanto tramandato dallo storico Filippo da Tussio, all'altare maggiore con l'elaborato tabernacolo Ligneo, opera degli abilissimi ebanisti Cappuccini, venne realizzato nel 1745 all'epoca del padre guardiano Giuseppe Dascoli e segue modelli assai diffusi nei conventi abruzzesi del medesimo ordine. Soppresso il convento, in epoca napoleonica, l'area fu successivamente designata ad ospitare il Camposanto e la chiesa fu adibita a cappella cimiteriale. La pala d'altare, coi dipinti che le fanno da contorno, era già riferita all'ambito di produzione di Giovan Battista Spinelli, ma recenti studi ne hanno messo in dubbio la paternità pur considerando le opera di un maestro coevo. 1.12 ambito abruzzese lapide commemorativa 1127 pietra incisa proveniente dalla cattedrale. La lapide è un importante documento la cui iscrizione testimonia alla ricostruzione e riconsacrazione alla Divina Maria, il 10 novembre 1127, della chiesa madre di Ortona, dopo la distruzione, all'epoca dell'invasione normanna, del precedente luogo di culto. Oltre cento anni dopo, con l'arrivo ad Ortona delle spoglie di Santo Maso, la chiesa subirà ulteriori trasformazioni, divenendo col tempo il magnifico luogo di venerazione dell'Apostolo, ma mantenendo nei secoli la doppia intitolazione.